Coach Enrico Fabri, sabato si comincia il campionato, la nuova avventura della Lina Vincipir Domodossa nel campionato di Sereci contro Cirie. Siete pronti per l'esordio? Sì, siamo pronti, siamo carichi, abbiamo voglia di fare. Sappiamo che non sarà una partita facile, Cirie ha dei giocatori esperti su cui dovremo stare attenti, però cercheremo di dare il massimo per ottenere il massimo risultato. Ecco, situazione della squadra, stanno tutti bene? Ho letto stamattina forse c'è la definizione, la defezione di Bertona o c'è ancora due allenamenti? No, sicuramente Bertona non sarà dei nostri, ci sono altri acciacchi, ci trasciniamo durante la settimana, però ormai sono rientrati, piano piano li avremo sempre di più, quindi dobbiamo un po' lottare ancora con questo assetto non perfetto, però abbiamo tempo per migliorare e per crescere ancora. Ecco l'ultima domanda per te, l'esordio sulla panchina del Dom, le tue sensazioni? Quando si alzerà la palla a due? Sicuramente sono emozionato, perché io al Dom ho trovato dei dirigenti, delle persone intorno a noi che veramente ci fanno sentire il loro calore. Sappiamo e dobbiamo conquistare i nostri tifosi lavorando con un grande sacrificio, umiltà e dedizione per dimostrargli quanto noi teniamo a questo campionato a lottare per questa società e per questa maglia, onorandola ogni domenica e ogni sabato che andiamo in campo. Grazie.